andiamo non so dove, non so come, non so con chi non so facendo cosa, ma andiamo puzzi, non mi sono lavato oggi vuoi venire a prendere uno spritz con me? va bene, nessun problema no ragazzi non scappate, non sono un personaggio pericoloso non scappate ma sono delle ragazze di fancamesso, scappate non sono, ma non sono una persona pericolosa guardatemi in faccia cioè ma vi posso sembrare pericoloso io? vi posso sembrare pericoloso? io, guardatemi come posso sembrare pericoloso? no, ma perché non ditemi sì? non sembro pericoloso, cazzo non sembro pericoloso sembro solo brutto cioè sono brutto e sembro un ragazzo brutto tutto qua, tutto qua, ok? tutto qua carissimo, posso provare... scusa, caro aureola cerchietto con questo potrei sembrare meno pericoloso che dite? lo si prende? lo si prende chat? sì tu che dici? lo devo prendere? quanto viene? 5 euro amico, 5 euro 10 euro, 8 euro, 5 euro come vi sembro? 5 euro fatti, fammi girare il drummine intanto stiamo un attimo qua a fare due chiacchiere te lo compro, te lo compro aspetta un secondo che mi giro il drummine che mi sento un botto foro non so con chi altro stare davvero questo è l'unica persona che mi ha rivolto la parola oggi e non perché sei un venditore ambulante lo fai perché mi vuoi bene 5 euro? no, per favore, non lavoro no, no, ti do 5 euro non ho neanche fatto una cosa che non sia io quindi fai no, 5 euro te li do 5 euro te li do ragazze, come vi sembra con questo cerchietto? fantastico fantastica mi devi dire, fantastica io mi sento donna, ok? basta basta vedermi sempre come un uomo io mi sento donna rivolgetevi al femminile con me che cazzo scusa caro adesso mi vedo che cazzo tutti questi predilizi di merda mannaggia la miseria fantastico sì, bello di qua, di là no, io sono una donna sono una donna io mi sento donna, ok? forte, indipendente porca miseria mi sento una donna con la D maiuscola ok? prego caro grazie ciao che dite? che dite? che dite? che dite? siete felici che la metal di wish è tornato in città è tornato in città la metal di wish è tornato dovevo farmi la barba? sì lo so la metal di wish è tornato in città che dite? grazie comunque questa roba in testa secondo me rimorchi un sacco ragazzi ho un drinkino insieme grazie mille bellissima notizia grazie grazie lo so grazie amo grazie so ma i lady vorrebbe concedermi questo ballo? è un ballo come vuole lei, siamo in diretta, vuole fare un saluto agli amici da casa? Ciao, come mi dia lei i passi? Un ballo così per andare a ritmo del vento Spostati un po' verso l'interno No, no, non sfogliamoci No, no Come la musica? Una baciata Come si fa la baciata? Hai capito? Ma è molto brava signora Si muove come una ventenne Ha lo spirito di una ventenne lei E' eccezionale E' eccezionale questa signora Ma anche lei, ma avete tutto lo spirito da ventenne Ma siamo ventenni Io sono di 21 anni 21 anni, ok, però Si sta, grazie Io ho la ventenne qua Ma siete sposate? Sì, siamo duresti Siamo sposati Siamo sparati Dove te c'è la baciata? Ci sta? Ci sta? Ci sta? Ci sta? Ci sta? Bello? Anche a me piace la figa come loro Quindi abbiamo già un sacco di cose in comune Ci sta? E' un mio amico? No, 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 no Ma quello che ha detto non è per niente conforme con la Mileni di Pensiero Mi perdoni signora eh No, 59 69 no? 59 Davvero? 59 Ma gliene avrebbe dato il massimo 30 lei, carissima 59 Gliene avrebbe dato il massimo 30 Bella com'è e il giovanile com'è Assomiglia un po' a Simone Aventura Bravo, me l'ha già detto che io assomiglio Ma però lei è più bella di Simone Aventura Sono stata anche Guess My Age Ah, quindi è puro personaggio pubblico Certo Wow, mi sento onorato ad essere qui con lei oggi Allora, la... Sì Eh, come si chiama? Eh, mh, mh, di Simone Aventura Sì Ciao Ciao, carissimi Ciao, buona giornata Cosa cazzo sto assistendo oggi? Oh porco Dio Oh ma porco Dio Ma questa è mia mamma No, crano Cosa ci fai lì mentre io mi sbatto tua nipote? Porco Dio Mamma torna a casa No, eh, se sto un po' a vorgare Quello che ho detto non è per niente conforme Con la milione di pensiero, amico mio Ragazzi, vogliamo andare un po' a figa? Vogliamo andare un po' a figa? Ok Ok Grazie a tutti No, eh, se sto un po' a figa? Ok, grazie a tutti